Ecco siamo qua adesso a Sinigallia, nel primo video vi ho detto che non ho avuto tempo per spiegarvi bene. Ora è pomeriggio e sono al mare di Sinigallia. Non farò il bagno perché è ancora molto presto per fare il bagno, però comunque un po' di persone ci sono. E' un po' strano vedere la spiaggia così vuota, senza ombrelloni, senza allettini, perché siamo in primavera e non siamo ancora in estate, ma quando sarà in estate tutta questa spiaggia sarà piena di persone. Non andremo in questa spiaggia qua in questo estate, me ne andremo in un'altra, però questa spiaggia qua sarà piena. Io adesso sono qui con i miei genitori a rilassarmi un pochettino, visto che la scuola è stata un po' faticosa, un pochettino ci vuole un po' rilassarsi. Adesso sono qui con voi a farvi vedere com'è la spiaggia di Sinigallia. Ecco voi la spiaggia di Sinigallia. Ciao ragazzi, alla prossima!